E' la musica che ha fatto la storia negli anni 80 e 90 Venerdì 10 ottobre, Agli Alberoni presenta La Noce Caliente In console, Mr. Nick, Rossano Pitico, Ivan Medini, Cipo DJ, DJ Salvo, Nick 81 80 voglia di musica, anni 80 e 90 e Italian Style Venerdì 10 ottobre, La Noce Caliente Agli Alberoni, Brussa di Caorle, Venezia In collaborazione con Come as a dancer, it's a source companion You can feel it everywhere